SONO LA FIGLIA DI SHILLA CARTIER WELLS SONO LA FIGLIA DI SHILLA CARTIER WELLS SONO STANCA DI CORRERE E VOGLIO RISPOSTE SONO LA FIGLIA DI SHILLA CARTIER WELLS SONO LA FIGLIA DI SHILLA CARTIER SONO LA FIGLIA DI SHILLA CARTIER SONO LA FIGLIA SONO LA FIGLIA DI SHILLA CARTIER 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 SONO LA FIGLIA SONO LA FIGLIA SONO LA FIGLIA SONO LA FIGLIA DI SHILLA CARTIER SONO LA FIGLIA SONO LA FIGLIA SONO LA FIGLIA è stata attivata. Allontanarsi per consentire la chiusura della vetrata. L'ho trovato. Il big socket di Bad Request. Ottimo, usalo per forzare le serrature di sicurezza. Lasciami indovinare. Scoprirò che Bad Request è il mio fratello segreto. È così. Grazie a tutti. 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 Chiusura cella per trasferimento paziente. Allontanarsi, prego. paziente incustodito in aria riservata. Grazie a tutti. 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 Ok. Sto arrivando, Bed. Sto venendo da te. Non esiste, Bed. Ci sono quasi. Stanno trasferendo Bed. Disturba il sistema di distribuzione delle celle. Errore d'assegnazione. Guasto al sistema di controllo delle cellule. Errore d'assegnazione. Errore d'assegnazione. Errore d'assegnazione. Grazie a tutti. Errore d'assegnazione. Non mi arrendi. Errore d'assegnazione. 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 Oh, signore. Che cosa ti hanno fatto? Elin, la mia sorella è perduta. È quello che stavano preparando per te quando ti ho liberata da qui. È atroce. Dobbiamo porvi fine. Estrae la sua memoria. È l'unico modo. Perdonami, fratello. Stavolta entro nella tua testa senza il tuo permesso. Così vuoto. Così vero. Non rimane niente di lui, solo ricordi strani. Hanno cancellato tutto l'antecedente al suo arresto. Il resto non gli appartiene neanche. Qui è ordinaria amministrazione. Lo porto con me. Capacità mnemonica insufficiente. Trasperimento del soggetto alle fosse a 7 che ha avviato. Bed! Devo tirare Bed fuori di qui. In questo momento non puoi fare nulla per lui. Segui le remanescenze che hai rubato. Ti porteranno fino al dottor Quaid. È lui che devi fermare. È lui che devi fermare. Così, anche tu sei un cacciatore di ricordi. Ovviamente sei all'altezza della tua amica Nelina, ma sei comunque un soggetto straordinario. Isolando ciò che ti rende così speciale, saremo in grado di comprendere meglio le malattie mnemoniche. Che cosa gli hanno fatto? Sotto il mio controllo potrai abbandonare la tua miopia privata d'individualità e scoprire i vasti oceani della risonanza cognitiva dei liper. Come ti invidio. Sotto il mio controllo. 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 Non lasciarti sommergere dal dolore. D'ora in poi possiamo sopprimerlo intervenendo direttamente sulle radici mnemoniche. Molto rassicurante per entrambi. Lo trovi. Trasformano i detenuti in liper e i liperi in animali domestici. Quaid... Quaid... Che pazzo. I veri mostri sono anomalie. Il dottor Quaid è stracolmo di difetti. Questo tipo non merita di vivere. Quaid... 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 Grazie a tutti. 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 l'individualismo. a tutti. 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 grazie a tutti. quade. non è più nella mia testa grazie 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 cacciatrice e ricordi grazie per aver aperto le porte Johnny Green teeth non eri un semplice soggetto da laboratorio vero Dottor green così vuoi Così vero! Il passato è una terra sconosciuta. Farò in modo che tutti sappiano che cosa ti hanno fatto qui dentro. Eravamo dei mostri, ma eravamo liberi. Lui voleva renderci suoi schiavi. Quede è morto. È finita ora. Autenticazione codice nero accettata. Sequenza di autodistruzione avviata. Sì. È finita. Sebastien ha pagato. Ora tocca a te, cacciatrice Tordi. Poi toccherà a me. Tutto questo orrore verrà cancellato dalle fiamme! Divertitevi! C'è la... Morte silenziosa. Avvolgetemi nella sua felle! Ti vedo! Vivertitevi! Vivertitevi! Morte senza vol. Vivertitevi! Vivertitevi! Morte senza vol. Vivertitevi! 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 Strafate! Minacce nascoste! Strafate! no controporto roma silenzio Johnny ha ordinato la distruzione dei laboratori Salterà tutto Devi scappare Grazie per la visione